Buongiorno a tutti, io sono Matteo Saccani, amministratore unico di Milestone Tour Operator e un tour operator nato nel 2019 che appartiene al gruppo impresariale Icec. Noi siamo un gruppo di giovani torinesi innamorati di Cuba, della sua società e del suo popolo e abbiamo deciso di iniziare un percorso che ci permetta di esplorare e di vivere Cuba da vari punti di vista. Oggi voglio presentarvene due, inizio con la parte food che è il progetto di cui più andiamo orgogliosi. Noi importiamo cioccolato, zucchero, caffè, miele e frutta fresca direttamente dai campesinos cubani. La maggior parte dei prodotti sono biologici, vengono distribuiti in Italia in una rete di oltre 40 centri che sono associazioni, circoli, botteghe ecosolidali e a tutti gli effetti sono prodotti che fanno parte del circuito ecosolidale che creano un ponte culturale basato sul cibo tra Italia e Cuba. Questo ponte culturale noi lo viviamo, lo realizziamo grazie alla parte di Milestone Tour Operator che è un nuovo soggetto che propone viaggi a Cuba alla ricerca della storia, della cultura e alla scoperta di questa fantastica isola. Milestone è prevalentemente specializzata in viaggi self drive per cui noi e le nostre agenzie ci sediamo con i clienti, insieme a loro valutiamo le esigenze, il periodo, quanto vogliono spendere, che cosa vogliono vedere e costruiamo un itinerario personalizzato secondo le proprie esigenze, secondo la vacanza che il singolo viaggiatore vuole vivere a Cuba. Poi proponiamo un pacchetto completo di volo visto per nottamenti, noleggio dell'auto e assistenza in loco H24 con l'idea che noi crediamo sarà il futuro del mondo del turismo organizzato che il cliente possa vivere un'esperienza in totale autonomia, quindi che per lui sia un'avventura ma pianificata ed organizzata da professionisti del settore che garantiscono in tutti i momenti che i servizi rispondono alla qualità desiderata dal cliente. Per noi questo è il modo più bello che ci siamo inventati per vivere la relazione tra il nostro paese e questa fantastica isola caraibica. Arrivederci a presto.